Ben trovati, la scorsa settimana feci la riflessione a proposito della popolarità del governo Vendola e del presidente Vendola che si era fermata rispetto all'ascesa che aveva avuto negli ultimi anni, malgrado il suo essere iper presente non in Puglia ma per il resto d'Italia e in tutte le trasmissioni nazionali anziché di essere presente almeno qualche volta in una trasmissione, in un inibittente della regione Puglia o del Salento, noi lo attendiamo da sei anni bene o male, però questo è un altro aspetto. La vittoria a Milano durante le primarie per individuare il candidato sindaco del centro-sinistra vide emergere l'avvocato Pissapia, personalità di Milano ma in questa fase vicino all'onorevole Vendola e da lì si cominciò nuovamente a parlare di questo effetto di sinistra ecologia e libertà e si avevano le primarie, sempre per individuare il candidato sindaco del centro-sinistra sia di Bologna che di Napoli e ahimè un po' a conferma di quella che era la classifica e del blocco della popolarità e di questo sentimento di rivalsa verso il Partito Democratico da parte dei Vendoliani a Napoli e a Bologna, quindi al nord e al sud, la regione confinante, la regione della solidarietà sui rifiuti, il candidato vendoliano, i candidati vendoliani perdono e vincono coloro che dall'apparato del Partito Democratico ne escono poi di fatto vincenti per le prossime consultazioni amministrative. Io spero che questo faccia comprendere al Governatore Vendola che forse è meglio rimanere un po' più in Puglia e garantire non una sperequazione tra i territori, perché l'ultimo esempio e vi leggo un'agenzia ANSA, l'ultimo esempio di quanto il territorio pugliese sia non legittimato da parte del Governo Vendola è anche la ripartizione dei fondi previsti per lo spettacolo all'interno della regione Puglia. Il 54% di questi si ferma a Bari, pur Bari rappresentando soltanto il 30% della popolazione regionale. Ma andiamo per ordine, sui complessivi 3 milioni e 200 mila Euro previsti per il 2010 nel Fondo Unico regionale per lo spettacolo, più del 50% è andato di questo fondo a soggenti operanti a Bari. Con l'impegno di spesa quindi pro capite per la regione, ossia quanto la regione spende per ciascun cittadino relativamente ai fondi legati allo spettacolo, per Bari la spesa pro capita è di 1.38 Euro, mentre per il resto dei pugliesi soltanto lo 0,51 Euro. Vi faccio degli altri esempi, per quanto riguarda il sostegno del teatro, sui complessivi 406 Euro totali, 285 mila e 500 spettano al capoluogo pugliese, quindi circa il 70% delle risorse, così come avviene bene o male per la danza, per la musica e per il cinema, ma avviene qualcosa anche per la promozione delle attività teatrali, musicali e cinematografiche. Ecco, questo non va, io non verrei che poi alla fine la crociata del governatore Vendola per una politica contro un sistema bloccato, che può essere anche quello che lui denuncia all'interno del Partito Democratico, poi di fatto impedisce a questo di far crescere tutti i territori. Ed ecco, una posizione necessaria, ma a margine di questi dati certi, quindi non di una valutazione politica, di una valutazione economico-finanziaria, non ancora abbiamo ascoltato l'assessore Godelli, non ancora abbiamo ascoltato alcuna giustificazione da parte della Regione Puglia, né tantomeno dei dirigenti. Ora, comprendo che per il gran lavoro a livello nazionale per lanciare Sinistra Ecologia e Libertà e per tentare di vincere anche le primarie di Napoli e Bologna, il governatore possa dire, non lo sapevo, come spesso è accaduto anche a proposito degli scandali della sanità pugliese. A domani.